Nel mondo dorato della televisione, dietro le luci dei riflettori e le risate che si spandono attraverso lo schermo, emergono segreti inaspettati. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La bellissima Filippa Lagerbach, nota modella e showgirl, ha recentemente svelato un aspetto inedito del collega di lunga data, Fabio Fazio. In una recente intervista esclusiva con la rivista Oggi, Lagerbach ha rivelato dettagli sorprendenti sulla personalità del noto conduttore, che da anni è una presenza costante nei salotti televisivi italiani. Mentre il trio di Che Tempo che fa, composto da Fazio, Luciana Littizzetto e la stessa Lagerbach, continua a riscuotere successo su Discovery, sembra che dietro le quinte si nasconda un lato di Fazio completamente diverso da quello che il pubblico conosce. Sono felice di essere rimasta con la mia famiglia professionale, Fabio e Luciana Littizzetto. Mi sento fortunata a lavorare con loro. Luciana è una donna straordinaria, ha un cuore enorme. Si batte per i più fragili anche a telecamere spente, ha dichiarato Lagerbach, evidenziando l'impegno sociale della sua collega. Ma è quando si è giunti al discorso su Fabio Fazio che la rivelazione ha preso una piega interessante. Mai visto un professionista come lui? Lo ammiro anche perché sa passare con grazia dal parlare di guerre e dei problemi del paese, al film comico o alla situazione che fa ridere, ha continuato Filippa. Ha poi condiviso che Fazio le ha insegnato l'importanza di studiare e prepararsi accuratamente per ogni puntata, adeguandosi alle diverse personalità degli ospiti. Questa rivelazione getta una luce nuova sulla figura di Fabio Fazio, dimostrando che dietro il sorriso affabile e la conduzione impeccabile si nasconde un uomo di profonda versatilità e dedizione al proprio lavoro. Il pubblico resta ora ancora più affascinato dalla squadra di Che Tempo Che Fa, sicuro di aspettarsi ancora sorprese da questo trio dinamico. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.